Diverse sanzioni elevate, capillare attività di controllo e prevenzione di vendita e fuochi pirici illegali, buonsenso e responsabilità dei cittadini consapevoli della pericolosità dei botti e il bilancio dell'attività di prevenzione compiuta dagli agenti del commissariato di polizia di Andrea nelle ore precedenti il capodanno. I controlli del commissariato sono ferrati e sono costanti, sono state dedicate delle pattuglie con persone specializzate proprio per monitorare il fenomeno ed evitare che si possano sviluppare incidenti, ci possano essere problematiche più gravi. Allo stato attuale sono stati ad esempio controllati numerosi esercizi commerciali dove peraltro devo ammettere che per quanto riguarda quelli muniti di licenza non abbiamo riscontrato grandi irregolarità, differenza invece della vendita abusiva che di fatto anche se non in tantissime ipotesi è stata effettivamente riscontrata nella città di Andrea. Allo stato attuale ad esempio sono state sequestrate alcune bancare abusive e combinate sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro. Devo ammettere che i botti che sono stati in occasione sequestrati, parliamo di qualche chilo, denotano anche una pericolosità importante perché non danno nessuna garanzia sulla produzione e sull'utilizzo. Se da un lato emerge senso civico da parte dei cittadini, dall'altro dal commissariato di polizia spiegano la differenza che intercorre tra materiale legale e illegale apparentemente uguale. Questo è uno dei tanti manufatti che è stato sequestrato recentemente, come potete vedere non ha etichette, non ha nulla, non offre nessuna garanzia, ad esempio anche questa miccia particolarmente corta per la tipologia di esplosivo che è contenuto qui all'interno. Si presta facilmente ad incidenti, la stessa confezione che può essere facilmente infiammabile, non dà alcuna garanzia sull'utilizzo di questi prodotti e devo ammettere quindi che la cittadinanza di Andria sotto questo aspetto ha reagito con grande maturità. E con questo chiaramente io auguro a tutta la città di fare delle buone, delle ottime feste, serene senza chiaramente la necessità di utilizzare questi prodotti. Grazie.